Dopo Desio, anche Strasburgo è amara per la Silica Savellino, che cade con il Sig con il finale di 63-57. Sin da subito è una gara a punteggio basso. Alla giocata di Le Lupe corrisponde quella erpina firmata sull'asse Thomas Cousin per l'inchiodata al quinto. Strasburgo non eccelle, ma è più decisa dei Lupi, per un primo allungo sul più 8. La Scandone risulta bloccata in attacco, ma si affida a Ragland per la risposta da oltre l'arco, ma il Sig spinge e con il 21-8 nel secondo quarto vola sul massimo vantaggio. 36-20 all'intervallo lungo, un punto al minuto per i Lupi, che provano a cambiare marcia nella ripresa. Randolph affonde in transizione ed è protagonista tra i biancovirdi e Ragland mostra tutto il potenziale fisico appoggiando dalla linea di fondo. Avellino rientra sotto la doppia cifra di Divario e con la tripla di Green dall'angolo torna sotto solo di 6 al 34esimo. Ma dall'altra parte, Slaughter è micidiale quando corre. Bomba del più 9 a ricacciare il tentativo di recupero Irpino. Poco dopo, Walker innesca Howard e praticamente suggella il successo transalpino. Strasburgo vince e ribalta la differenza Canistri con il finale di 63-57. Ora Avellino è terzi in Champions ed è chiamata al rilancio tra campionato e Coppa a partire da Cremona, domenica pomeriggio.